Renzi è venuto questa mattina a Scampia Se non c'era Renzi c'era un altro, era la stessa cosa I politici che vogliono fare? Sono le piacce, la fantasia e l'allucinazione, ce l'hanno in Napoletano Ci siamo imparati tutti quanti, loro sa cosa fanno, ci sono l'autore di canzoni, scrivono una bella canzone e qualcuno la viene a cantare E noi la canzone è in Napoletano, cantiamo così la panza e io ne stacca la canzone, questa è la verità Un bel colpe sarebbe molto meglio Fanno questo tutti i politici però? Lui insieme a tanti altri Insegnare educazione civica qua a Napoli Ha fatto una mezz'oretta di lezione con dei ragazzi elementari di Scampia E perché non li ha fatti a Firenze? Domenico stava a Roma a vedere la sua Fiorentina e hanno combinato quello qua, lui non ha detto niente Questa è soltanto una presa in giro perché ci sono le europee, ma state le europee si sono diventate di Napoli, del sud e di tutto il resto, come sempre Campagna elettorale diciamo? Potrebbe essere Potrebbe, potrebbe essere Tutti vengono a fare la campagna elettorale qua, poi ci fanno mancare tutti Ma viene Renzi, vengono nati 10 Renzi, non combino niente perché stanno 30 anni dietro Il voto ce lo darei, ma che caranzia ci dà? Può darsi che sia un segnale positivo perché non bisogna mai pensare solo in negativo, è vero, tutti i ladri, tutti i ladri, ma fino a un certo punto Mezzo a tanti ladri può darsi che ci sta un risveglio Io credo che comunque si stia a momento bene Renzi, quindi credo che comunque, anzi mi auguro e spero che faccia le cose bene Quindi per Napoli secondo me è una buona immagine che ha dato, tu che pensi? Non so, in questo momento dopo la fiction comorra tutto lascia pensare ad altro però Fatto in un altro momento forse poteva essere più, diciamo visto meglio Noi siamo dei giocattoli per lo Stato, basta, solo questo dico Porenzi se merita va a potere, speriamo che fa le cose buone Perché non l'ha fatto a Bologna, a Torino, a Milano, a Venezia, a Verona Che viene a Napoli, viene a Scampia, ci viene a degradare ancora di più Vengono a Napoli, ci vengono a fare lezioni a noi, noi siamo noi che diamo lezioni a noi Noi siamo noi la civiltà, il sud Italia è la civiltà, non il nord Italia Penso che non c'è bisogno di che viene Renzi a Napoli Lei dice che lui... Grazie 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 Grazie